Siamo in Serie C, Girona Elite, dove per la terza di campionato si sono sfidate le rivali storiche neopromosse Draghi Bat contro Foggia. Qui accanto a me il mister coach dei Draghi Bat, Leo Amoruso, che ci onora della sua telecronaca per questa partita. Parola direttamente a Leo. Buongiorno a tutti, passo subito a leggervi la formazione. Farano, Modogno, Curci, Pedone, Carbone, Stripoli, Puzzissi, Franceschina, Pacini, Nicola, Martino, Povia, Battaglia, Valente e Leonetti. Passiamo subito alla telecronaca della partita. Vediamo che c'è una ripartenza alla mano da parte del mediano dei Draghi Bat, che viene sanzionata con l'arbitro e con un calcio libero. La decisione di giocare la palla alla mano, c'è una ripartenza del mediano Franceschina. I Draghi vanno in rack, proteggono la palla. C'è una ripartenza di nuovo alla mano, sempre da parte dello stesso mediano. Ora protezione del pallone, però la palla viene rubata dall'ala del Foggia, che riparte in contropiede. Nell'azione convulsa c'è stato un fallo da parte del Foggia, sanzionato dall'arbitro con un calcio piazzato. Calcio piazzato affidato al piede di Pacini. E palla tra i pali. Draghi batte in vantaggio 3-0. Vediamo un'azione di ripartenza, però c'è un fallo da parte degli avanti-trainesi, c'è una punizione da parte del Foggia, che però non viene maldestramente calciata, quindi palla di nuovo in mano al Foggia. Introduzione della mischia, vediamo la mischia del Trani che tiene parecchio. C'è una ripartenza da parte del franco e avversario, viene fermato prontamente dall'ala valente. Palla nuovamente in posizione del Foggia, il mediano che apre nei confronti del pilone e che prova ad entrare. Fermato comunque dai avanti-trainesi. Fasi convulse di gioco, viene sanzionata la giocata da parte del Foggia, sono bravi i difensori dei Draghi a riconquistare la palla. C'è una tush con introduzione errata da parte del Foggia, non sanzionata all'arbitro che comunque fa continuare il gioco. Parte una moll, una spinta, vediamo la spinta del Foggia, è estremamente efficace in questo momento, si riorganizza in ogni caso la moll tranese e prova a ripartire. Prova a ripartire, non riesce comunque la compagine foggiana a far uscire la palla e quindi c'è inversione del possesso e palla a favore dei Draghi Bat. Vediamo il lancio di tush da parte del tolanatore, numero 92 Modugno. Palla lanciata sul primo bocco a favore di Carbone che viene prontamente servito dal mediano. Il mediano non avendo tempo alla giocata prova ad entrare. E' lui ad entrare ma a perdere palla. E' il Foggia a ripartire, il Foggia a ripartire palla alla mano. C'è comunque un fallo a favore del Foggia, l'arbitro ha fiscato il vantaggio, si ritorna sul vantaggio. Sembra la spalla che è il punto dolorante a Franceschina. E' stato intervento del mediano, comunque ritorna prontamente in campo. Introduzione della misca ovviamente per il Foggia. C'è la ripartenza alla mano da parte del terzo al centro, partenese efficace, bloccato comunque dal terzo al centro opposto l'Omolino. Palla riconquistata dai Draghi e calciata fuori da Pustizi. Nuova misca con introduzione tranese questa volta. E' lo stesso Lomolino a ripartire palla alla mano. Viene prontamente aiutato dai compagni a recuperare la palla. La palla continua a essere in possesso dei Draghi della nuova provincia. Però l'arbitro vede un fallo e un tenuto. Quindi il giocatore che tiene la palla a terra e non la libera a favore dei propri compagni di squadra. Vediamo il pubblico comunque meno numeroso delle altre domeniche ma comunque presente. C'è una ripartenza con un calcio da parte del primo centro tranese con la Martino. Sono i giocatori difensivi del Foggia a ricoverire il pallone e a provare a far ripartire l'azione con un calcio. La palla finisce direttamente tra le bacce di Strippoli che prova a ripartire col sostegno dei propri compagni. E faranno a prendere la palla e prendono la responsabilità di portarla avanti. Protezione del pallone fatta in maniera efficace da parte delle Draghi. Ora il mediano che decide la giocata. si guarda attorno e decide di giocare sulla propria sinistra. E Curci, l'altro pilone della formazione di Draghi, è di entrare. C'è stato un avanti nel corso dell'azione quindi c'è un'introduzione tranese da parte vede l'uomo che si libera prima dell'introduzione nella misca e quindi un fallo da parte del Trane. E di nuovo Pacini che se ne è in carica. Questa volta la palla finisce lontano dai pali quindi una realizzazione mancata da parte della formazione dei Draghi Bat. Sono i Foggiani a ripartire palla al piede con un calcio direttamente tra le mani di Pustizzi che comunque se lo fa cadere e quindi commette fallo in avanti è introduzione quindi per la mischia a favore del Foggia. E il mediano che introduce la mischia tranese comunque estremamente efficace di impatto è sempre la terza cento che riparte palla alla mano. Viene fermato dagli avanti tranesi, palla messa a disposizione e libera per essere giocata dal Foggia. E il 9 verso il 10, prova il calcio di avanzamento il capitano del Foggia. Ma la palla va finita tra le braccia dell'estremo Leonetti che prova a mettere a disposizione. Fase abbastanza confuse di gioco. Lo stesso Leonetti andando a terra non ha liberato la palla commettendo quindi un fallo di tenuta. C'è la tuscia a favore del Foggia, la palla viene mandata indietro da parte del Foggia che riparte comunque con una posizione alla mano. Giocata del Foggia, si forma una rack, sarà il mediano a ora distribuire il gioco, decide di aprire verso il proprio numero 10. Apertura verso il secondo centro, palla persa in avanti, vantaggio a favore del Trani, vantaggio non concretizzato, si ritorna sul punto quindi c'è una mischia a favore dei Draghi. Mischia introduzione sempre da parte del mediano Franceschina. È lui ad aprire verso il mediano di apertura numero 10 Pacini che con un calcio va a liberare la propria area dei 22. È l'estrema avversario che prende palla e prova a ripartire, viene prontamente bloccato dallo stesso Pacini che aveva calciato, ora palla messa a disposizione. Viene fischiato comunque dall'arbitro un fallo per entrata alta, è errata questa volta il lancio da tuscia da parte di Modugno e quindi la palla viene recuperata prontamente dal Foggia che è brava a mantenere il pallone in questa situazione di gioco, probabilmente proverà a cercare il piede di qualche suo attaccante per liberare l'aria. Invece riparte alla mano, avanzano facendo parecchi metri sul campo, viene ora bloccato il numero 13 Foggiano da parte dell'Omonino. La tuscia è a favore del Trani, il lancio viene fatto a favore di Carbone però non è perfetta la palla messa a disposizione per il mediano, c'è un'inversione per lancio storto, ora c'è il Foggia in possesso di palla, viene commessa comunque nello sviluppo della tuscia, un fallo in avanti, questo dà luogo a una nuova mischia, vediamo fasi molto fallose comunque di gioco sia da parte del Trani che da parte del Foggia, vi sono numerosi falli in avanti, lanci storti e in questo caso anche un'introduzione storta della palla. L'ovale viene introdotto sotto i piedi del Tranonatore, è il numero 22 che libera sul piede di Pacini che poi va a esplorare il campo, una ricerca di una nuova giocata a favore delle ali, però la palla è troppo lunga, va a finire direttamente fuori, è una tuscia a favore del Foggia, il Draghi ruba palla e Franceschina per Pacini che prova ad attaccare lo spazio, Puvia può attaccare dritto per dritto, vi è però un fisco arbitrale, quindi si ritorna sul punto del non concesso il vantaggio, incredibilmente non concesso il vantaggio da parte dell'arbitro e viene fischiato un velo, c'è un giocatore del Trani che si è introdotto davanti ad un altro giocatore del Trani e quindi fallo a favore del Foggia. C'è una nuova misca, palla non introdotta, quindi va, palla non tallonata, quindi va reintrodotta e l'ovale. Ora la spinta del Foggia che si fa sentire di più, Franceschina sempre per Pacini, un nuovo calcio di spostamento per Pacini e l'ala Foggiana a recuperare il pallone e a calciare su alti in avanti. L'estremo dei Draghi prova ad attaccare con un lancio che però anche in questo caso troppo lungo, quindi che non riesce a essere recuperato dallo stesso estremo. Si ritorna sul punto e quindi palla introdotta in mischia da parte del numero 9 Foggiano. È il mediano di apertura che può sviluppare il gioco Foggiano, piuttosto sterile, fino a quando non c'è questa accelerazione del secondo centro che riesce a percorrere parecchi metri. Palla incredibilmente errata proprio all'ultimo momento dopo una spentastica giocata del numero 12 Foggiano. Ci sarà quindi una tucia a favore del Trani e Carbone ad aprire a favore di Franceschina. Brutto passaggio di Franceschina che costringe a un calcio veramente difficile di Leonetti. La palla vaga in aria tranese e l'arbitro fischia un avanti. Un avanti, dunque palla per fortuna a favore dei Draghi, sebbene una zona estremamente difficile. L'Omolino va ad andare direttamente a Pacini e che prova a liberare l'aria. Calcio che va a finire in tusce. L'Ovalever ha rimesso dal Foggia. Siamo passati a una fase successiva di gioco. È una mischia rigiocata a favore del Trani. Il Foggia ha sviluppato la propria giocata nella 22 dei Draghi. Ora il mediano ha a decidere la giocata e decide di continuare a giocare con gli avanti. È una palla lenta, tant'è che consente ai Draghi di salire velocemente, però viene fischiato un fallo di entrata alta da parte dell'80, poi via dei Trani. Vediamo la decisione del Foggia. Decide di giocare palla alla mano il Foggia e di non calciare verso i pali. C'è l'entrata della terza centofoggiana, la riproposizione, schierati i Draghi attenti a non commettere fuori gioco. Provare a ripartire dall'altro lato di Foggia. C'è un nuovo attacco foggiano, prontamente respinto dalla compagine dei Draghi. Bene, siamo alla fine del primo tempo. Momento per far rifiatare le due squadre. Momento anche per l'esame da parte dello staff tecnico da parte del primo tempo e tutto ciò che deve essere modificato e gli errori ai quali rimediare. È stata una partita molto tattica e quindi al tempo stesso estremamente fallosa da parte di entrambe le squadre. Lo staff tecnico proverà a portare alcuni accorgimenti in maniera tale da rendere soprattutto più efficace lo sviluppo dei giochi dei Draghi. E Francesco Nunez ad arringare la squadra per far ritrovare nuove motivazioni, nuovi stimoli e soprattutto lo sviluppo di un gioco migliore nel secondo tempo. Oggi in panchina per sostituire colui che vi sta facendo radio cronaca in quanto squalificato. I Draghi in effetti nel primo tempo hanno palesato un po' quelle che sono stati i limiti di questa prima parte di stagione con un gioco alla mano un po' sterile rispetto al gioco sviluppato e fatto conoscere l'anno scorso nella Serie C. Si riparte da una nuova mischia, sempre a favore dei Draghi, palla persa però l'abito decide di rifar giocare la mischia. La palla è a favore dei Draghi, ora è Lomolino che prova a ripartire ma viene subito affossato dalla pronta reazione dei avanti Foggiani. Ora è Pustizzi che riparte ma viene anche lui immediatamente rimbalzato dalla posizione corretta dei Foggiani. si decide di aprire il gioco verso Pacini. Pacini anziché aprire decide di attaccare lo spazio dopo una finta ma viene portato indietro da parte della difesa avversaria. I Draghi e Trani provano a organizzare una molle fatta poi cadere da parte del Foggia. È sempre Pustizzi a ripartire palla alla mano. Una serie di pick and go che provano a far avanzare il gioco. La palla però viene in maniera maldestra persa dai Draghi di casa e riconquistata dal Foggia. È il numero 10 l'apertura Foggiana a provare ad aprire il gioco. Palla recuperata da Leonetti il quale prova a far saltare non uno ma due giocatori e viene bloccato invece sebbene con un fallo di entrata alta da parte del 10 Foggiano. E nuovamente Leonetti a provare a gestire la palla in difesa ma ancora una volta anziché decide di calciare decide di affrontare la difesa avversaria. Situazione estremamente difficoltosa che prova a rimediare Franceschino con calcio liberatorio subendo un fallo. È una nuova Tustranese da Pacini a Povia che prova ad attaccare lo spazio ed entrare in velocità e viene sollevato. Quindi un fallo abbastanza plateare da Pacino a Poggio di Foggia non segnalato dall'arbitro Silos. Sono i Draghi che provano a mantenere l'iniziativa del gioco. Viene fischiato ora un fuorigioco da parte della formazione rossonera Foggiana. Rimane a terra il capitano dei Draghi Antonio Pedone probabilmente per un fastidio al ginocchio è il medico sociale dei Draghi che prontamente interviene ma sembra non essere nulla di troppo serio per quanto riguarda il ginocchio del capitano Pedone. Si riprende dunque dal fallo a favore dei Draghi affidato come al solito a Piedi di Piacini puntuale a trovare la Tush. Da una nuova situazione di calcio avversario riparte questa situazione di difficoltà per quanto riguarda la difesa tranese palla gestita male dai tre quarti in fase di difesa sono i Foggiani ora da attaccare in maniera sempre più convinta sono i Draghi che in questo momento stanno lasciando spazio alla manovra Foggiana cosa che non era successo per niente nel primo tempo. Situazione comunque pericolosa nella zona dei 22 difensivi dei Draghi e ancora il Foggia ripartire palla alla mano ad attaccare lo spazio sviluppa un attacco che sta portando i giocatori Foggiani fino al limite della linea dell'area di meta sono sempre i Foggiani a ripartire vanno verso l'ala si crea uno spazio per poter attaccare bravo Valente a contrastare l'attacco dell'ala Foggiana e a fargli perdere l'attimo per entrare in meta si ritorna comunque su un fallo precedente anche se non meglio identificato dall'arbitro vediamo cosa ha fischiato ha fischiato il fuorigioco e quindi una ripartenza alla mano da parte del Foggia che decide di giocare velocemente cogliendo di sorpresa la formazione di casa è del numero 4 Foggiano a schiacciare la palla nella linea di meta e a sorpassare quindi a fare proprio affisare il punto del sorpasso da parte della compagine Foggiana nei confronti dei Draghi Bat il calcio per la realizzazione del cos'è tra i pali ed è preciso e puntuale il risultato quindi è di 7 a 3 per la formazione Foggiana quindi per i Draghi tutto da rifare bisogna ritornare in vantaggio e bisogna ritornare ad attaccare vediamo il tifo della formazione di casa sempre molto caldo è arrivato il momento dell'ingresso in casa di Vito Conca a sostituire Farano vediamo la situazione di Mischia Tranese che prova subito a ricoportarsi in attacco e l'omorino a ripartire viene prontamente bloccato dal flanker avversario e prova a mettere la palla a disposizione ma c'è un giocatore del Foggia che si frappone in maniera irregolare tra la palla e la giocata l'arbitro in maniera discutibile fischia la palla tenuta per il Tranese nonostante ci fosse un giocatore tra la palla e la possibilità di giocarla da parte della compagine dei Draghi e Leonetti a provare a ricalciare indietro la formazione Foggiana c'è un errore di tenuta da parte del Foggia ed è un fallo in avanti introduzione della Mischia quindi a favore dei Draghi la Mischia Tranese si fa sempre sentire ora è Franceschini ad aprire per Pacini provare uno sviluppo di gioco ritorna dove c'era la Mischia quindi va a prendersi dello spazio vicino ai propri giocatori di Mischia cercando di formare un ammollo che però stenta ad avanzare l'arbitro fischia nuovamente un tenuto è un momento per altri cambi da parte delle formazioni vi è stata l'ammunizione da parte del numero 4 Foggiano quindi la formazione di Draghi è in superiorità numerica e Fabiano a salire in tuscia e a tenere la palla e a provare a organizzare una Molle è una Molle che però non riesce a partire velocemente è Conca a provare a far ripartire quindi c'è una Rolling Molle riparte la Moltranese sembra efficace sembra arrivare verso la linea della mia vita è Curcia a condurre la squadra in questo momento ci sono giocatori comunque del Foggia che si frappongono in maniera nuovamente irregolare tra la palla e cosa non vista dall'arbitro neanche questa situazione il Foggia riparte parla alla mano situazione di sviluppo è il mediano che apre per il proprio numero 11 placcato è un fischio dell'arbitro vediamo un leggero infortunio per il pilone che ha lasciato il posto a Conca Stefano Farano è una nuova ulteriore mischia però da parte dei Draghi però c'è un fallo perché un giocatore del Foggia si stacca prima che la palla venga introdotta i Draghi in questo momento all'arma bianca provano ad attaccare in qualsiasi maniera più di nervi che non di organizzazione di gioco lasciando parecchie palle vaganti in campo sembra essere questo il momento in cui i Draghi stanno producendo il massimo sforzo per raggiungere un risultato che per quello visto sul campo comunque meriterebbero siamo a una fase comunque di attacco invece in questo momento del Foggia con un'introduzione molto vicina ai 5 metri dell'area tranese il numero 20 subentrato all'altro mediano che prova a gestire il gioco c'è un attacco del numero 10 del capitano Foggiano che comunque viene portato indietro da parte della difesa tranese in questo caso è molto brava a concretizzare questa situazione entra il numero 2 Giuseppe Rella quindi per scelta da parte del del tecnico Nunez lascia nel campo il capitano Pedone e il numero 80 Dario Povia con l'ingresso anche di Tommaso Bombini c'è uno bello sviluppo del gioco da parte dei Draghi con palla però tenuta troppo tempo in mano da parte dei stessi padroni di casa una palla pericolosa calciata in maniera non opportuna nella stessa 22 dei Draghi viene fatta facile preda da parte dell'attacco Foggiano che prova a tenere palla e quindi a a far perdere tempo e soprattutto a tenere i Draghi Tranesi più lontano possibile dall'area di attacco della della compagine Foggiana e sempre sono sempre i Foggia ad attaccare in questo momento sembra averne di più rispetto alla formazione di casa in questo momento anche se la formazione della sesta provincia è brava ad organizzarsi in difesa e a far perdere il tempo della giocata al Foggia c'è una mischia non gestita bene ancora una volta da parte della formazione di casa ed è il Foggia a ripartire sfruttando la regola di 10 metri a guadagnare 10 metri in attacco è un calcio ora del mediano Franceschini a provare a liberare la propria area ma c'è un attacco veemente da parte dell'estremo dell'estremo Foggiano che si rifugia nel proprio primo centro e ancora il Foggia a provare ad attaccare in questi minuti finali della della partita con sembra che con i cambi abbia abbiano inestato forze più fresche quindi riescono a gestire meglio il possesso palla e ancora la palla per il Foggia che prova ad attaccare la compagine tranese nella propria 22 sicuramente la formazione dei draghi riesce comunque a difendere con con ordine e con soprattutto con con grinta è arrivato il momento del cambio anche per il mediano Mario Franceschina c'è una tuscia per il Trani è fatta da parte del Strippoli una nuova introduzione è passato Pacini a numero 9 qui da mediano di Mischia con evidente spostamento dell'estremo Lionetti a mediano di apertura la palla è a favore dei draghi Pacini decide di calciare l'intuscia e quindi di sfruttare questa situazione per gli ultimi attacchi da parte dei draghi foggiani vediamo il pubblico che cerca di incitare la squadra di casa per quest'ultimo sforzo per provare a raggiungere questa vittoria la palla calciata da parte dei draghi è fatta facile possesso da parte del foggia che prova a tenere palla per rintuzzare gli attacchi da parte dei draghi è sempre il foggia a provare a tenere palla con il gioco con i propri avanti il mediano ora la apre per un altro avanti quindi sempre un gioco di avanti a tenere palla per far passare il più tempo possibile vediamo una fase estremamente convulsa però l'arbitro interviene per fischiare un fallo a favore dei draghi c'è una mischia una nuova mischia sarà sempre palcino a introdurre la palla passato come detto al numero due nel mediano di mischia l'arbitro decide di fischiare l'introduzione storta e quindi di dare la palla a favore del foggia i draghi hanno comunque riconquistato la palla provano ad attaccarla con Vito Conca in questo momento c'è un fallo al collo e quindi i draghi provano a ripartire in velocità il foggia non concede i dieci metri previsti per regalamento ma l'arbitro ritiene che non sia una partita al punto giusto i draghi di casa una nuova formazione di casa per attaccare la linea di avversari invece no l'arbitro ritiene che viene commesso fallo da parte della formazione di casa e strippoli Claudio che prova ad attaccare lo spazio riesce a saltare un paio di avversari fino a che non viene fatto preda dei giocatori foggiani che sono anche bravi a riconquistare il pallone e a riportarsi in attacco la palla è ancora in possesso del foggia che prova a imbastire questa azione d'attacco c'è un calcio da parte dell'otto che va a finire direttamente fuori quindi con l'introduzione della misca dal punto del calcio una nuova misca forse l'ultima occasione per la franchigia della stessa provincia per attaccare gli spazi per provare a giocare è un gioco a due tra Colamartino e Leonetti che provano a inventare qualcosa in questa fase finale palla ora tra le mani di Rella e ancora il Trani che prova ad attaccare e che prova a fare il gioco cercando di concretizzare questo possesso palla continuo delle ultime delle ultime fasi di gioco arriva purtroppo il fischio finale che sancisce la sconfitta per 7 a 3 da parte della formazione dei Draghi Bat contro il Cus Foggia una partita tutto sommato equilibrata che entrambe le formazioni avrebbero meritato di portare a casa ma che forse premia la maggiore caparbietà e forse la maggiore grinta messa in campo per lo meno nel secondo tempo da parte della formazione Cussina ai Draghi rimane senza dubbio un grosso rimpianto per una partita che era assolutamente nelle proprie corte ed è una partita che serviva oltre che alla classifica anche al morale della formazione dei Draghi per cominciare a smuovere una classifica che diventa alla terza giornata amara soprattutto per quello che i Draghi oggi hanno provato a mettere in campo comunque come sempre avviene un incontro di rugby fischiato la fine dell'incontro le due compagini si salutano si abbracciano è un momento in cui vengono meno tutte le tensioni e anche gli sconti che possono esserci stati in campo c'è il saluto verso il pubblico perché è una cosa fondamentale per gli amanti del rugby quello che si viene a creare dopo la partita quindi il clima che si crea tra le due formazioni il clima che si crea con i tifosi sia di una che dell'altra formazione il momento di rito che è quello del terzo tempo nel momento in cui le due formazioni mangiano e bevono una birra insieme nel momento in cui si riesce a a stare insieme anche al di fuori del campo e anche oltre ogni tensione l'urlo finale è che il saluto dei draghi a Grazie a tutti.